Il piano industriale dell'Enel arriva a valle di un periodo di fortissima volatilità sui mercati delle commodities e parte da un piano di disposal importante, oltre 20 miliardi, che è servito all'azienda a ripristinare una disciplina finanziaria e delle condizioni di bilancio che potessero permettere di guardare al futuro con una rinnovata spinta agli investimenti, una sorta di ritorno alla normalità. Questo ritorno alla normalità l'abbiamo anche portato nella capital allocation, nella definizione di dove sviluppare il piano di investimenti dell'Enel. Sotto questo punto di vista, diciamo, semplicità innanzitutto, quindi gli investimenti vengono allocati dove ci sono dei ritorni importanti, parliamo spesso di 300 basis point, ma questo serve a dare un'idea appunto di un valore, di una regola abbastanza fissa che fa parte di questa disciplina finanziaria di cui parlavo. È importante l'allocazione geografica, perché l'allocazione geografica fa parte poi del bilanciamento di questi ritorni con una componente di rischio. Chiaramente i ritorni che ci aspettiamo in Sud America devono essere maggiori degli investimenti in Europa, perché il costo del capitale in Sud America è un costo del capitale più alto. Altro elemento importante è bilanciare la generazione di cassa con gli investimenti. In passato l'Enel ha fatto fortissimi investimenti nelle Americhe per favorire l'espansione internazionale e la presenza internazionale. Oggi ritorniamo a investire fortemente in Europa, perché l'Europa genera oltre il 70% delle bidda, dei margini del gruppo, e quindi riportiamo l'Europa un po' al centro degli investimenti. Nel fare questo subentra l'altro elemento importante, che è quello della visibilità che ci sono su questi ritorni e la necessità di investire nelle reti, sia per un tema di resilienza, sia nuovamente per un tema che la regolamentazione che hanno le reti permette di avere una predittability, come si dice nel mondo anglosassene, sul ritorno di questi investimenti, che chiaramente è molto più forte rispetto a un investimento di mercato, come spesso sono gli investimenti negli impianti rinnovabili. In tal senso, per quantificare questi investimenti e dare delle proporzioni, noi, come dicevo, oltre il 70% degli investimenti li faremo in Europa. Nel mondo delle reti stiamo aumentando gli investimenti del 50% in Italia, mentre in Spagna e in Sud America sulle reti abbiamo una crescita di investimenti, ma come ci preme dire, questi investimenti sono ancora in una fase iniziale di sviluppo, perché ci attendiamo di avere quello stesso livello di visibilità che stiamo avendo nel mercato italiano, i colloqui e le discussioni con il regolatore, stanno portando i frutti sperati, che sono quelli di avere un meccanismo di riconoscimento, una premialità, come viene chiamata anche nel settore, sui incentivi agli investimenti che ci consentano appunto di avere quel ritorno degli investimenti garantito da una remunerazione del capitale investito che sia visibile, perché in tante altre situazioni, in tanti altri scenari, questi investimenti invece hanno un'incertezza che non si addice al mondo delle utilities, a un mondo anticiclico, a un mondo dove gli investimenti hanno un arco temporale che supera i 20 anni, a volte anche i 30 anni, pensiamo agli impianti rinnovabili, ma pensiamo alla stessa RAB che ha molte componenti di ammortamento che raggiungono i 30 anni.